cinque anni a new york cosa porta in italia di esperienza beh una fantastica esperienza perché per chi fa il mio lavoro di bancario banchiere ovviamente questa è la piazza finanziaria più importante del mondo quindi qui si vedono tutte le innovazioni tutti i trend tutte le grandi operazioni finanziarie su scala mondiale si vedono da qua e quindi è stata un'esperienza impagabile e devo dire ho anche avuto modo di apprezzare la l'energia e il dinamismo della comunità italiana che c'è qui che è molto attiva e molto numerosa il sistema italia new york funziona o c'è qualcosa da cambiare secondo me sistema italia funziona perché siamo un gruppo di o imprenditori o managers ma anche di professionisti molto coesi che si riuniscono si parlano si aiutano quando serve ci sono delle associazioni come il j come altre che fanno un lavoro incredibile per tenere la community molto unita senza contare poi le tante eccellenze italiane dal punto di vista business che vengono qua investono assumono non solo new york ma in tutti gli stati uniti e che facendo il mio lavoro ho avuto la fortuna di aiutare accompagnare e osservare nelle loro grande sforzo e sforzo di successo nel conquistarsi una quota di mercato in questo paese se lei potesse avere come si dice l'espressione in inglese l'orecchio dei politici italiani soprattutto chi sta palazzo chigi cosa consiglierebbe per riuscire a far sì che finalmente gli investimenti americani arrivano in italia e questa è una domanda una domanda complessa investimenti americani già ne arrivano in italia credo che l'italia sia un partner importantissimo per gli stati uniti abbiamo visto anche quante volte giorgia meloni ha collaborato in questi ultimi mesi col presidente biden è stata qui un anno fa meno di un anno fa in una visita molto importante c'è un rapporto bilaterale strettissimo per una comunanza storica di valori e di obiettivi strategici quindi io credo che l'italia sarà e sarà considerata dagli stati uniti anche economicamente un partner strettissimo per la sua posizione nel mediterraneo per il grado di dinamismo e di innovazione delle sue aziende il giocattolo che funziona non si tocca le esportazioni italiane insomma il sistema italia l'america ama l'italia non si deve cambiare nulla c'è ancora qualcosa che può essere cambiato sì hai detto bene l'america ama l'italia le esportazioni in questo paese sono cresciute moltissimo e oggi abbiamo un un avanzo commerciale molto importante con questo paese tutte le volte che qui si parla d'italia gli americani si atteggiano in un modo favorevole rispetto al nostro paese quindi io dico solo alle aziende italiane che hanno il merito di questo di avere creato dei brand dei prodotti dei servizi che sono molto apprezzati da in questo paese di continuare a fare così e di continuare a investire perché questo è un paese che remunera chi sa lavorare bene come le aziende italiane che sa trovare lo spazio per tutti e quindi non il mio consiglio è che non devono essere timorose le aziende devono venire con coraggio a fare business qua e troveranno una comunità italiana che le aiuta grazie 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 grazie